Mi ha appena raggiunto il supervisor della Conhead, Walter Bark, che stasera era sul luogo dei disordini. Signor Bark, lei sta dicendo di aver visto Spider-Man con i suoi occhi distruggere molteplici linee elettriche? Eh, sì, sì, signore, esatto. Avete sentito, amici? Direttamente da un testimone irreprensibile, il teenager del terrore attacca la nostra rete elettrica! Eh, sì, lui stava... sì, parlava con l'uomo terra. Come, scusi? Sì, stava parlando con l'uomo terra prima. Insieme volevano far sparire il mostro elettrico con una ragnatela scintillante. Va bene, sì, grazie mille. Beh, questo... faremo un altro giro per confermare quanto detto, amici, e io parlerò con i miei produttori per scoprire cosa c'è dentro il termos del signor Bark. Ma il fatto rimane! Spider-Man è una minaccia! Torneremo subito dopo la pubblicità dell'integratore del Daily Bugle. L'unica altra dose quotidiana che vi serve. Eh, stop! Che c'è? Lo tengo d'occhio. È con sua zia e uno che non conosco. Sicuro? Stanno lasciando il ricovero. Ok, non perderlo. Grazie.